Ecco 5 cose che tendo a non fare più da quando sono diventato farmacista. Numero 1. Assumere vitamine non fondamentali ogni giorno. Le vitamine andrebbero assunte solo quando si ha una grave insufficienza vitaminica, cosa molto rara, soprattutto se si segue una dieta varia e completa. Numero 2. Credere che un farmaco un integratore sia sicuro solo per il fatto che è naturale. Molti prodotti naturali possono addirittura interagire o rallentare l'azione di alcuni farmaci, quindi consultatevi sempre col vostro medico farmacista prima dell'assunzione. Numero 3. Preferire un farmaco originale o un equivalente. I principi attivi dei farmaci sono identici e in Italia e in Europa abbiamo una regolamentazione molto ferrea sulla loro emissione in commercio, quindi a parte rarissimi casi il generico va sempre bene, senza contare il fatto che costa anche meno. Numero 4. Credere ciecamente ai consigli di medici e specialisti. I dottori sono anche loro esseri umani e quindi possono incorrere in errori, soprattutto se sono oberati dal lavoro. Quindi è opportuno sempre chiedere una seconda opinione. Non costa niente. Numero 5. E' più importante prendere tanti farmaci simultaneamente senza sapere bene cosa fanno. Infatti è molto comune che molti farmaci, anche da banco, interagiscono l'uno con l'altra, andando invece che a migliorare la patologia, a peggiorarla. Alla prossima. Grazie.